cara devo dirti una cosa sei maschilista ciao benvenute ciao ragazze bentornate io sono irene e io sono teresa e questo è il podcast di cara sei maschilista oggi siamo qui anche per festeggiare i 10.000 ascolti che abbiamo avuto su questo podcast siamo veramente felicissime sono state 10.000 volte che hanno premuto il play e che avete ascoltato le nostre parole grazie mille ragazze quando abbiamo iniziato questo percorso questa avventura circa sei mesi fa non immaginavamo che saremmo arrivata così lontano assolutamente no quando abbiamo raggiunto i 100 ascolti nella prima puntata per me era già il top io pensavo che non potesse andare meglio quindi sta andando molto molto bene grazie anche a voi per la pazienza che avete e per l'apprezzamento che avete verso il nostro lavoro grazie mille e ne approfittiamo anche per parlarvi del nostro piano di incentivo su steady steady è una piattaforma che nasce per stimolare progetti di media indipendente così come cara sei maschilista cosa vuol dire un progetto indipendente sono persone che hanno una passione che dedicano il proprio tempo le proprie risorse per una causa in cui ci credono e noi ci crediamo di brutto quindi se volete aiutarci a spargere la voce e a spandere questo progetto perché abbiamo un sacco di piani supportateci su questa piattaforma facciamo tutto in due col nostro sudore ma perché ci crediamo veramente nella causa e quindi se volete sostenerci andate su www.stedihq.com li trovate cara sei maschilista con tanti nostri piani e tanti benefici che stiamo offrendo alle nostre carissime sostenitrici vogliamo ringraziare le nuove sostenitrici del podcast e del progetto di carassima schilista elisa teresa e sarà grazie mille ragazze 7 top poi se mi dite cara teresa vi voglio tantissimo tantissimo bene però in questo momento io sono in casa integrazione ancora e posso dire che vi capisco benissimo e quindi non posso partecipare non posso sostenere il podcast purtroppo con i soldi in questo momento quindi cosa posso fare per aiutarvi condividete ogni volta che state ascoltando il nostro podcast condividete nei vostri stories mandate alle vostre amiche raccontate quello che stiamo facendo perché anche questo è un grandissimo support ok e così potete aiutarci e costa a zero dai ragazzi grazie mille e andiamo avanti per chi non ha mai ascoltato il nostro podcast a parte andare a riascoltare tutte le altre puntate vi spiego come funziona noi dividiamo il programma in tre parti la prima parte è la polemica è il tema centrale della nostra puntata la seconda parte è quella che vi diamo dei consigli e indicazioni su cosa guardare cosa vedere cosa leggere profili instagram e facebook da seguire eccetera e la terza parte è il nostro contatto diretto con voi quando leggiamo le vostre mail i vostri messaggi e dall'ultima puntata anche i vostri audio inviati su dm di instagram questa puntata veramente io sono molto felice di fare perché è un argomento che mi piace tanto è qualcosa che ho vivo da molto tempo nella mia vita il tema è viaggio da sola non è proprio una polemica vera e propria però con punti di polemica sai quando io ho indicato questo tema ero molto gasata avevamo fatto un post sulla pagina di instagram che era andato molto bene poi ho pensato un po e mi sono messa in dubbio pensando cavolo forse è un tema un po superficiale forse stiamo parlando di cose che non sono veramente il focus del del femminismo sì sicuramente ci sono problemi più importanti nel femminismo da discutere e ne discuteremo ma vogliamo un po alternare dei piponi importanti come come puntata con delle puntate più più leggere e vi dico tutti i problemi sono problemi e quindi dobbiamo discutere proprio tutti secondo me andiamo alla polemica allora andiamo quando pensiamo a quest'ultima viaggio da sola forse vengono veramente solo delle idee bellissime in testa di partire e godersi una vacanza però ovviamente come stiamo parlando di teresa lei è andata a ricercare tutta la storia del viaggio e tante cose che io non avevo la minima idea che invece gli spiegano tanto di quello che viviamo oggi da dove sei partita sono partita da tanto tempo fa perché per mileni ci sono state tante attività di cui siamo state escluse io una di queste è proprio il viaggio il viaggio è sempre stato associato principalmente alla conquista l'avventura alla guerra e al commercio no uno spettro totalmente maschile legato al lavoro legata alla politica noi siamo che abbiamo già detto mille volte siamo state limitate per tanto tempo a un ambiente domestico che era attribuito come naturali per noi l'esempio principale che ho letto in un articolo sulla storia del viaggio che può dare una una figura a questa idea dell'ambiente domestico e del viaggiatore è proprio il mito dell'odissea no penelope e ulisse sono un sono emblematici in questa cosa qua perché lei è a casa sua nel suo ambiente domestico che aspetta questo suo amato questo suo uomo che in realtà è l'incarnazione del viaggiatore ulisse no della persona coraggiosa della persona temeraria che ha viaggiato per tanto tempo proprio rappresenta questa divisione dello spazio dalle donne e dall'uomo sin dall'inizio della della civiltà diciamo così durante la storia poche donne erano quelle che viaggiavano davvero e c'è sempre stato un ritaglio di classe sociale anche oggi certo tanto tempo fa quelle che viaggiavano erano le regine le e quelle dell'alta aristocrazia per motivazione che erano le loro non necessariamente per svago ma per altre ragioni tante dovevano viaggiare anche per sposarsi le poche donne modeste che si avventuravano nella storia di spostarsi da sole senza un accompagnatore ufficiale maschio non erano affatto ben viste erano viste come non rispettabili non erano viste come donne intelligenti donne coraggiose fino alla metà del ventesimo secolo le donne che facevano degli spostamenti del genere venivano considerate poco di buono per il matrimonio quindi veniva quindi non non era affatto una roba positiva per le donne viaggiare da sole complementa anche tutte le altre cose che una donna non potrebbe fare c'è anche quello di viaggiare da sola assolutamente tutte le attività che non sono dentro lo spettro dello stereotipo femminile le donne sono quelle poco di buono quelle da non sposare ovviamente però stiamo parlando della metà del ventesimo secolo io sono nata nel ventesimo secolo sì tu dice la metà del ventesimo secolo poi vedremo che arriverà anche fino ai giorni d'oggi nel diciannovesimo secolo il viaggio inizia ad avere un nuovo significato a parte la parte commerciale a parte delle guerre che abbiamo detto prima c'è stato il boom del grand tour cos'è il grand tour il grand tour è iniziato nel nel 1600 però sai nel diciannovesimo secolo con il vapore con l'inizio dei treni a vapore tutto quanto con la borghesia alla fine no i ovviamente figli maschi hanno iniziato a fare a questi viaggi lunghissimi che potevano durare mesi come anni con il loro tutor per tutta l'europa per l'africa sai per arricchirsi culturalmente e diventare uomo quindi dopo il loro studi a casa con il tutor facevano questo viaggio nel frattempo che facevano le donne il viaggio del grand tour o i viaggi in generale per le donne erano considerati rilevanti perché le donne non avevano bisogno di studiare tutto quello che le donne avevano bisogno di imparare era dentro l'ambiente domestico quindi ricamare cucinare prendere cura della casa eccetera eccetera e quindi il viaggio per loro è rilevante cosa vanno cosa vanno a imparare queste donne in giro per il mondo un cazzo a quello che gli serve per fare la brava moglie la brava mamma e quindi i giovanotti andavano in giro per il mondo a divertirsi a culturarsi a vedere le opere d'arte dei teatri che ovviamente in quel periodo lì senza internet era l'unico modo di vedere no nell'era vittoriana alcune donne hanno sentito una spinta verso la scienza verso il conoscimento e verso a certi tipi di lavoro ci sono stati due gruppi diciamo così alcune donne che hanno si sono spostate a lavori verso l'educazione come istutrice come facendo filantropia per per dire quindi lavori che comunque entrano dentro lo spettro della donna che si prende cura di qualcosa e quindi queste donne avevano la scusa di andare in viaggio per lavoro come istutrice come governanti di altre case tutto quanto quindi è rientrata anche una classe sociale un po più bassa e altre donne che erano spinte verso la scienza e che provavano a viaggiare però non riuscivano avere finanziamenti quindi in tante si sono travestite da uomini per lavorare come assistenti di naturalisti di medici e di altri scienziati e poter anche imbarcare nelle navi perché in quel periodo e anche un po prima portare delle donne in nave portava un po sfiga no se c'erano queste navi di commercianti esatto navi che non facevano proprio la traversia di passeggeri trovavano delle scuse per viaggiare non con il loro marito accompagnando o per il loro padre per dire per i pellegrinaggi di religione quindi trovavano queste piccole scuse per provare a fare piccoli viaggi però non era una cosa molto diffusa e c'era ovviamente un taglio sociale molto importante allora iniziamo a pensare ok va bene però teresa stai parlando di una cosa che è successa 300-200 anni fa dopodiché ovviamente le donne hanno avuto la libertà di viaggiare quando volevano di fare quello che volevano di girare il mondo certo no e no e questo lo sai raccontami un po no infatti quando abbiamo iniziato a fare la ricerca per questa puntata abbiamo iniziato a chiederci ma da quando le donne hanno avuto la libertà di viaggiare da sole abbiamo trovato alcuni dati su alcuni paesi e non è che sia molto positivo quello che abbiamo trovato faccio un esempio nell'iran soltanto dal 2017 una donna può viaggiare senza il marito senza l'autorizzazione esplicita del marito però però solo in casi specifici che sono pellegrinaggi motivi di salute terzo adesso non mi ricordo eventi sportivi eventi sportivi per esempio c'è un atleta della squadra ufficiale nazionale quindi una donna può viaggiare senza l'autorizzazione il che non impedisce che il marito all'ultimo si vuole arrivare in aeroporto e dire lei non parte lei non parte quando ho visto il dato dell'arabia saudita sono rimasta abbastanza scioccata non lo so perché perché poi alla fine sappiamo che ci sono ancora tante restrizioni per tante cose c'è soltanto dal 2019 quindi due giorni fa quando non c'era la quarentena possiamo dire appena prima del coronavirus quindi poi c'è stato il coronavirus non possono partire dovevamo ridere no e poi è fatto il coronavirus non posso partire lo stesso e lì ovviamente ci venite a dire eh sì però queste religioni che sono molto restrittive verso le donne cosa volete eccetera eccetera noi siamo occidentali io volevo dire che fino al 1983 in australia un paese super sviluppato di gente bianca cristiana tutto quello che volete era necessaria l'autorizzazione del marito alla timbatura del passaporto delle donne sposate fino al 1983 quindi non è che stiamo parlando dell'area vettoriana come diceva teresa prima stiamo parlando veramente di pochissimo tempo fa e ora vi dico che ci sono circa 30 paesi in tutto il mondo in cui le donne ancora hanno bisogno dell'autorizzazione del marito per avere la possibilità di domanda di un passaporto io inizierei anche a parlare adesso del fatto che uno siamo molto privilegiate se vogliamo dire e ricordiamoci di ringraziare anche le donne femministe che hanno votato per questo assolutamente sì un po di tempo fa prima che che per noi fosse tutto così scontato arrivare richiedere un passaporto e partire dove vogliamo esatto pensiamo che è una cosa che ci è stata lì da sempre però è veramente da ieri che abbiamo questo diritto acquisito che ancora ha un privilegio perché io vi ricordo ragazze che mentre l'ultima donna non è ancora libera nel mondo non siamo libere nemmeno noi quindi non basta guardare i nostri diritti le nostre cose perché siamo fighe viviamo in Europa abbiamo più diritti delle altre mentre altre donne nel mondo non hanno il basico quindi dobbiamo veramente guardare oltre allora parliamo un po di adesso di quello che succede adesso abbiamo fatto un po di ricerca sui numeri perché i numeri ci danno sempre una prospettiva molto chiara di quello che sta succedendo no allora secondo una ricerca del centro del studio sul turismo jfc 62 per cento delle donne hanno già fatto un viaggio da sola e questa è una cosa molto positiva io ti dico quando mi hai dato questi numeri io sono rimasta abbastanza scioccata perché pensavo fosse molto meno io pensavo fosse molto meno però ci sono delle considerazioni da fare questo è uno studio di del 2017 ragazzi e smonta un po anche degli stereotipi che potevamo avere se tu ci pensi ai viaggi da sole ho sentito tante volte che le donne che fanno viaggio da sole sono quelle donne in mezza età che sono divorziate che hanno un po il ha avuto un le zittelle diciamo così una delusione amorosa si sono separate divorziate quindi hanno bisogno di fare questo questo viaggio alla giulia hobbert diciamo così diciamo così per per scoprire il mondo però questo studio ci dice che nel 90 per cento il desiderio di indipendenza mettersi alla prova e ritagliarsi degli spazi privati è il muovente più importante per queste donne e soltanto il 4,6 per cento di loro stanno viaggiando da solo per una ferita affettiva quindi è proprio uno stereotipi che non sta in piede e sì però dopo quando vai anche a a vedere che cosa dicono tutti i film che parlano di donne che viaggiano da sola che cosa succede vanno lì per curare la ferita affettiva e dopo trovano un uomo esatto perché finisce così però parliamo anche più avanti di questa cosa qua poi andando avanti con lo stesso studio vediamo un taglio di classe molto importante perché l'età media delle viaggiatrice solitarie di 32 anni hanno un titolo di studio la laurea per il 73 per cento e le donne che viaggiano da sole hanno per lo più una lingua straniera in tasca 70 per cento cioè sono donne che hanno uno studio molto elevato e probabilmente una classe più sì questo anche da anche un'idea del del taglio di classi e comunque del privilegio di viaggiare da sola un altro stereotipo che cade per terra è che il 47.8 per cento hanno un compagno quindi non sono solo le donne single che viaggiano da sole ma anche le donne sposate o le donne comunque impegnate però dopo c'è anche una percentuale che secondo me giustifica questo perché se il 76 per cento delle viaggiatrici sole lo fa per lavoro è un po sì si capisce che le donne viaggiano più per lavoro che per svago che è un peccato dove dovremmo fare tutte però è già una percentuale buona voglio dire è già un passo in avanti sicuramente questi numeri raccontano delle cose molto più positive di quello che mi aspettavo quando abbiamo deciso di fare la puntata poi per questa cosa del lavoro ci sono il 76 per cento che unisce il viaggio di lavoro con lo svago quindi è una cosa che faccio anch'io se devo stare tutta la settimana a londra per dire prendo il weekend insieme per cazzi miei quella è una roba che faccio spesso perché già oggi è tutto pagato ragazzi ok non diciamo giro già l'andata ritorno pagata mi pago solo l'aggiunta e siamo a posto e certo poi a parte a questo studio l'ultimo numero che volevo portare a voi è un numero di national geographic che dice che solo il 26 per cento delle donne millennial hanno viaggiato da sole quello che vuol dire che le donne stanno viaggiando molto di più per lavoro quindi le donne più grandi rispetto alle donne più piccole per svago questo numero invece è un peccato perché si poteva fare molto molto di meglio e poi quando vai secondo me anche una questione economica lì sì però questi millennium vivono anche loro in europa che costa poco viaggiare che si poteva fare e poi viaggiare e viaggiare non che non vuol dire andare da in italia fino all'australia puoi andare da qua fino a rimini è già un viaggio comunque quando national geographic ha chiesto sui loro social cosa le viaggiattrice sole hanno imparato nel loro viaggio più della metà ha scritto indicazioni consigli di come evitare violenze e problemi durante il viaggio quello vuol dire e questo è un punto che infatti prima o poi avremmo dovuto toccare in questa puntata perché la prima cosa che ascoltiamo quando diciamo che viaggiamo da sole fai da sole ma è pericoloso ma devi stare attenta sicuramente dobbiamo stare attente però non dobbiamo stare attente solo perché viaggiamo da sole dobbiamo stare attente perché purtroppo viviamo in un mondo patriarcale che è pericoloso per le donne sì no e quindi le violenze più a rischio noi siamo più a rischio e questa cosa è veramente reale questo però non deve essere qualcosa che impedisca che viaggiamo da sole sì ma semplicemente nel mio punto di vista che viaggio da solo da un sacco di tempo semplicemente ci sono degli accorgimenti che uno deve avere per restare al sicuro che poi non sono così diversi delle accorgimenti che purtroppo noi dobbiamo avere per vivere nella nostra città nella vita quotidiana nella nostra città è orribile però è vero però non dobbiamo mettere impedimenti nella nostra libertà e nel nostro diritto di spostarci di movimentarci quindi quello è importante da capire. Assolutamente no ci sono degli accorgimenti secondo me racconteremo anche perché a me piacerebbe anche iniziare a parlare un po' delle nostre esperienze sì di viaggio perché lì anche raccontiamo un po' di quello che abbiamo vissuto nei nostri viaggi da sola la prima cosa che io ti chiedo qual è stato il tuo primo viaggio da sola e cosa ti ha spinto a farlo? Qual è stato il mio primo? Sinceramente non mi ricordo proprio il primo però il primo viaggio importante che ho fatto da sola è stato per in Italia sono venuta in Italia quando avevo 20 anni 19 20 anni ero ancora in università ho preso dei miei soldini sono venuta in Italia per fare un concorso estivo nella Marangone di Milano era il mio primo viaggio da sola soletta proprio e cosa hai spinto a fare? Mi hai spinto a fare questa cosa di mi hai spinto a fare la mia carriera perché io volevo fare dei corsi all'estero e diventare più figli che idiota che idiota vabbè lascia stare comunque io lavoravo già avevo dei soldi da parte ho detto no io comunque devo non devo fare sai un viaggio solo per svago perché io devo diventare più figa studiare quindi sono venuta in Italia per studiare e sono rimasta per un mese e mi ricordo tuttora come se fosse ieri era un periodo che io non conoscevo Airbnb ok quindi io non esistevo Airbnb all'epoca non so può essere può essere di sì però io comunque non lo conoscevo anche se esistesse io mi ricordo come se fosse ieri io entrando in questa camera ad albergo guardando la fotuta stazione centrale dalla finestra dell'albergo e pensando porca miseria io sono qua da sola per un mese non conosco nessuno se mi succede qualcosa sono nella merda perché io i soldini cioè giusti 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 per arrivare alla fine mesi chissà e quindi se mi succede qualcosa è un però mi ricordo di avere questo brivido che allo stesso tempo era una paura assurda perché era la prima volta che lo facevo io ero veramente lontana da casa però allo stesso tempo era un era un brivido dell'avventura di dire wow sono arrivata qua da sola sono giovanissima e cazzo chissà cosa mi aspetta no c'è forse quell'aspettativa secondo me è la cosa più bella sì il mio primo viaggio da sola invece è stato sempre verso l'italia perché come sapete noi non siamo italiane no quindi io sono arrivata qua con 25 anni però non sono arrivata per passare un mese sono arrivata per vivere a milano così non ero mai venuta in europa ma neanche con i miei genitori non conoscevo l'europa non ero mai uscito dal mio paese e tranne qualche paese proprio vicino e quindi mi sono fatta questa valigia e infatti ho questa valigia rossa fino adesso perché è una valigia enorme e era l'unica cosa che avevo era quella valigia qualche euro nel conto corrente avevo anche un corso che dovevo fare però non sapevo cosa mi aspettava la cosa che mi ricordo veramente tantissimo è quando sono salita sull'aereo e anche a me è venuto questo brivido le farfalle allo stomaco e ho detto adesso sono io da sola posso contare su di me ovviamente con il supporto della famiglia nel mio paese di origine però era tutto su di me e questa cosa allo stesso tempo che mi faceva una paura tremenda mi provocava una felicità così grande c'è proprio un senso di libertà e di potere di potere su me stessa che non avevo mai provato e quindi per me questa esperienza è stata la prima che poi sono seguite diverse altre io ho avuto anche il privilegio di fare un lavoro per molti anni in cui io viaggiavo una volta ogni due mesi a paesi molto lontani in Asia e ogni volta che comunque che ci andavo avevo questa sempre questa sensazione di adesso le cose sono su di me io posso contare su me stessa però è una è una sensazione bellissima sì allora devo dire la verità ci sono storie tue che io avrei evitato tu hai rischiato un po' sì è vero allo stesso tempo che ho una sindrome dell'impostore che è fortissimo anche la sindrome della wonder woman che niente mi potrà attingere cioè invece io potrò essere forte davanti a tutti e mi è capitato per esempio anche di trovarmi in situazioni per lavoro per esempio che io mi trovavo in un ambiente di lavoro in un paese musulmano per dire alle due di notte a dare ordini a dieci uomini io da sola in quel momento lì io mi sentivo forte l'ho fatto e non mi non avevo paura però dopo quando me ne sono accorta che comunque era una donna da sola che fosse in un paese musulmano o un paese occidentale non è quello il punto però era una donna da sola che comandava altri dieci uomini mi rendo conto che avrebbero potuto trovare il mio corpo in una fossa davanti al posto dove ero e per quello è anche importante a parte questa sensazione del potere e dell'indipendenza anche capire dove sei capire nella realtà quali sono i pericoli in cui verso i cui andiamo incontro sempre nella stessa nel mio primo stesso viaggio verso l'italia c'è una storia che mi ha segnata molto che oggi rido però all'omento ero leggermente desperata io non parlavo l'italiano ero in Italia il mio corso era in inglese quindi non avevo bisogno era per un mese poi sono tornata pure al mio paese quindi non era non era necessario l'italiano io ho detto vabbè con questi due soldi che ho ho iniziato a tipo a mangiare panini a pranzo per risparmiare per dire no io sono qua non sono mai stata in Europa vado a fare i miei giri no e uno dei posti che ho deciso di andare mentre ero in Italia era a Venezia perché comunque non potevo fare la notte fuori da Milano quindi dovevano essere tappe che potevo fare avanti e indietro in giornata e ho fatto con con la freccia a Venezia non parlando in italiano ho pensato non compro dalla macchinetta perché ho paura anche perché non sapevo prendere dei treni non ero una super non ero sgammata dei treni no ero zero sgammata quasi per tutto però vabbè e quindi ho detto vado dallo sportello e mi prendo io i biglietti diretto lì perché sicuramente vengono giusti vengono bene ok ho chiesto allo sportello in inglese il mio inglese è buono voglio precisare ho chiesto il biglietto di andata e ritorno in giornata da Milano a Venezia va bene l'ho presi sono andata ho fatto una giornata splendida a Venezia mi sono persa mille volte ho bestemmiato quando ho visto il prezzo delle cose ho mangiato una pizza perché era quello che potevo permettere però è stata una bellissima giornata al ritorno prendo la freccia per tornare tardi e a un certo punto sale questa signora mi dice che lei doveva sedersi sul mio posto io prendo il mio biglietto e dico no guarda questo è il mio posto lei ovviamente poverina va a chiamare il capotreno perché mica era colpa sua il capotreno guarda il mio biglietto il mio biglietto era del giorno dopo no e quindi ti hanno fatto scendere hanno sbagliato il mio biglietto il capotreno mi ha detto lui cioè è stato un po bastardo perché ha visto che io non parlavo la lingua ha visto che io ero turista e mi fa guarda o paghi 80 euro di multa o scendere la prossima stazione io ho dovuto scendere ma mica avevo 80 euro io ma sei fuori io ho detto no ma io devo scendere assolutamente ma scendere dove sono scesa a vicenza non sapevo assolutamente dove era non so se avete presente ragazzi la stazione di vicenza ma è in mezzo a nulla quando tu guardi dintorno ci sono solo alberi non c'è una stazione con tipo una casetta è una roba minima quello che c'è a vicenza sono rimasta lì era tarde di notte ho preso un biglietto di tipo 10 euro regionale regionale per tornare a milano avevo una paura della madonna perché sono andata su questo treno c'erano solo uomini ho detto cazzo adesso se mi perdo se ho preso il treno sbagliato ma che cazzo ne so io ero assolutamente in panico sono riuscita ad arrivare a milano è andata tutto bene ma ti rendi conto una ragazza straniera che non sa parlare italiano è uscita da un treno in mezzo a un cazzo di nulla che non sa nulla io ho detto mi manca solo che non ci sono dei treni per andare a milano a quest'ora perché era comunque tardi ho preso l'ultimo regionale e devo dormire e dobbio Vincenzo no ma guarda che comunque io quando andavo nelle Marche mi è capitato diverse volte perché comunque ho abitato lì per fare il corso di italiano di fare i viaggi notturni e quindi scendevo in queste stazioni perché dovevo fare 3-4 cambi di treni da sola non ce n'è una di donna eh ho cercato mi siedo davanti mi siedo vicino a una donna così no solo uomini ho una paura della madonna mi guardavano male è pessimo sì però vedi dall'altra parte i posti che ho visitato e che mi sono sentita veramente sicura uno è stata la Thailandia che forse perché ci sono tante persone che fanno il viaggio zaino sulle spalle in Thailandia comunque è un posto che mi è piaciuto un sacco bellissimo ho fatto 15 giorni in Thailandia da sola e non mi sono mai sentita poco sicura ma lì perché comunque avevo già fatto altri viaggi per conto del lavoro e quindi alcune cose avevo già imparato per esempio una delle cose che io faccio sempre quando viaggio da sola per svago è scegliere un albergo in una zona centrale quindi ok adesso stiamo parlando del 2010 15 20 abbiamo internet per esempio io vado proprio su Google e vado a vedere proprio com'è davanti a questo albergo quando io prenoto un albergo vado a vedere se ci sono cose vicine sono ristoranti bar eccetera per sentirmi al sicuro diciamo che quando sono arrivata in Italia era un po' tutto campagna no su internet intendo no a Milano cioè quindi non avevo la minima idea di dove stavo arrivando praticamente però oggi è una cosa che si può fare e che comunque eri tu che non sapevi che c'era Duomo sì io perché ok adesso mi darete dalla vecchia per sempre comunque io quando mi sono trasferita a Milano io non avevo mai visto la foto del Duomo e non stiamo parlando del 64 perché non ero nata stiamo parlando del 2007 e io sì volevo venire a Milano eh ho preso ho fatto l'iscrizione al corso tutto quanto però non non esisteva Google Images c'era Yahoo non lo so che cosa c'era per cercare non avevo visto e quindi il primo giorno a Milano poso le mie valigie e vado a fare un giro no quindi da sola primo giorno sì infatti parlavo poco e niente di italiano inizio a camminare verso Vittorio Emanuele inizio a vedere questa chiesa questa cosa grandissima che non sapevo che cosa fosse non sai cosa fosse perché il Duomo non sembra una chiesa non è una chiesa normale non è una cattedrale normale ma che cos'è e mi ricordo bellissimo è stato un momento bellissimo mi ricordo che ho pianto perché poi c'è anche la mia parte del mio segno di cancro hai un cuore tu? sì a volte ho anche un cuore e ho pianto perché mi ha sorpreso tutto quanto e io ero già comunque in baglia del fatto di essere arrivata qua da sole è stato molto molto emozionante comunque ho scoperto che il Duomo si serveva quando sono arrivata a Milano va bene chi ci ha messo tipo 500 anni per essere finito però cazzo eh così era ti ho detto era tutto campagna su internet quando ho iniziato a venire qua comunque tutte queste nostre esperienze raccontano l'emozione che è viaggiare da sola no e il fatto che veramente ce ne accorgiamo di potercela fare e questo ci insegna anche che possiamo fare tante altre cose da sole perché sì normalmente quando tu decidi di fare un viaggio da sola la prima cosa è ma vai sola sì infatti mentre vai in viaggio da sola ci sono anche dei piccoli maschilismi che trovi per strada allora io e Irene siamo donne che lavoriamo che viaggiamo per lavoro ma viaggiamo da sole anche per svago viaggiamo ovviamente con i nostri compagni viaggiamo con le nostre amiche di solito facciamo anche dei viaggi tra di noi l'anno scorso siamo andati siamo andati ad Oporto con la nostra amica Carol Carol per chi non lo sa e secondo me nessuno di voi lo sa è la super voce che c'è alla fine dei nostri disclaimer di ogni puntata quindi se volete sapere chi è Carol la nostra carissima amica è lei che ci fa il disclaimer ed è stato bellissimo ad Oporto abbiamo trovato anche una ragazza che stava facendo un viaggio da sola sì e ci siamo divertite tantissimo perché poi c'è anche una cosa quando tu viaggi anche con un'amica che cosa ti chiedono ma andate da sole esatto perché avere un'amica non è abbastanza non è compagnia è abbastanza le donne sono nulle nulla sono pari a zero quindi vuol dire quindi se viaggia con un'amica continua a dire viaggete da sole eh no non abbiamo un cazzo in borsa però non siamo da sole siamo in compagnia eravamo in ben tre però vabbè ci siamo divertite da morire e viaggiamo anche da sole quando abbiamo pensato a questo tema io mi sono messa lì a pensare cavolo viaggiare da sole è una cosa che mi piace tantissimo però è da tantissimo tempo che non lo faccio sai perché ovviamente tra lavoro viaggio con le amiche viaggio con i compagni e un po' ci dimentichiamo forse non abbiamo manco tanto tempo per farlo e quindi mi sono ispirata da questo tema e sono andata da sola a fare un viaggio giustamente per la puntata Ferragosto sono andata in Grecia seguendo tutte le regole del covid distanziamento sociale e tutto quanto non vi preoccupate poi quando sono tornata ho fatto il tampone è stato negativo prima che qualcuno me lo chieda ed è stato un viaggio molto molto bello sono stata da un hostel a Corfu come ho scelto di andare in Grecia a parte che ho sempre voluto conoscere la Grecia e c'è sempre stato un problema che non sono potuta andare in Grecia però ho messo su Skyscarner che non ci sponsorizza ma potrebbe sponsorigiarci quindi se siete dal marketing di Skyscarner scriveteci ho messo su Skyscarner da Milano verso ovunque io amo fare questa cosa sì sì io lo faccio sempre è bellissimo e quindi ho visto quali erano le tappe che costavano di meno io pensavo l'Italia però l'Italia quest'anno aveva dei prezzi proibitivi certo perché tutti volevano andare in Italia era assurdo e la Grecia aveva dei prezzi bellissimi quindi sono andata a Corfu da sola l'avventura inizia che io ho fatto il biglietto ho prenotato il hostel e la tipa mi fa tu devi compilare questo form online perché se no non puoi entrare devi farlo prima della partenza l'ho fatto era un formulario del covid dicendo che tu non c'hai il covid che sei a posto e tutto quanto e poi lì ti emettono un QR code senza il quale non puoi entrare perché? perché random ti fanno fare il tampone ok e devi farlo entro il 24 ore io ho fatto con più di una settimana di anticipo ho detto sono bravissima quando prima prima della partenza io vedo che non mi arriva questo email perché ti dicono ti arriva l'email alla mezzanotte del giorno della partenza quindi era mezzanotte e mezza non mi è arrivato niente ho detto mo che cazzo faccio quindi sono entrata a vedere il mio profilo questo non ti l'ho detto perché ovviamente ho risparmiato per la puntata ho sbagliato il giorno di andata ho messo il giorno di ritorno e quindi? e quindi ho preso cioè è stato un culo che non ti hanno sento? no 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 ho trovato no ho cercato un sacco su internet ho visto che rischiava una multa di 500 euro quindi ho cambiato il volo ho perso mezza giornata di ferie perché sono una coglione vabbè e quindi lì sono andata però anche questo alla fine il bello è anche il fatto che se tu fai qualche cavolata non puoi neanche mettere la colpa a nessuno è tua la colpa non sei stata la coglione a paghi ho pagato e il volo per il giorno dopo al mattino piuttosto che partire a pomeriggio del giorno dopo sono partita la mattina del giorno dopo sono arrivata lì è stato molto carino perché ho detto no io voglio fare tutto da sola la tipa del hostel mi ha scritto ma che ti vengo a prendere in aeroporto ho detto no io vado in bus quanto tempo c'è in me solo aspettare il bus mi ricordo che mi iscrivevi dall'aeroporto ma io sono qua da un'ora non passa sto cavolo di bus quindi fa parte anche del viaggiare da sola è certo io pensavo di essere no io sono stata sveglia non pensavo di essere stata sveglia perché la tipa del hostel mi ha detto costa 7 euro per venire a prenderti e io ho visto i green bus della Grecia costavano 2 euro e 10 ho detto no io vengo con il bus però peccato che non ho visto bene gli orari quindi sono arrivata all'aeroporto di Corfu che è grosso come casa mia e prendo per andare al terminal del bus peccato che non è dentro l'aeroporto ho dovuto fare un chilometro e mezzo a piedi e peccato che i greci fanno schifo gli marciapiedi non ci sono i marciapiedi mamma mia ho fatto tutto a piedi con lo zainal sulle spalle un caldo di Cristo senza marciapiedi di niente ho rischiato un sacco però vabbè è stato bello è stato carino ci sono storie da raccontare le spiagge sono belle mi sono divertita da morire avete ascoltato i nostri racconti di viaggio secondo me potremmo andare avanti veramente per tantissimo però più che altro tutti questi racconti servono un po' anche a spingervi a sperimentare le stesse cose e comunque abbiamo visto che anche voi avete sperimentato e più avanti ascolteremo i vostri racconti principalmente perché ascoltare qualcuno che fa questo passo di comunque prendere l'iniziativa di andare da soli e che poi qua non parliamo solo di donne ma anche uomini la scelta di prendere un tempo per se stessi e fare un viaggio è sempre un percorso verso se stessi cara ti racconto una bomba allora partiamo con i suggerimenti faccio una piccola premessa che ho fatto una bellissima ricerca proprio donne che viaggiano da sole film perché la mia memoria non mi portava tantissimi ricordi di questa cosa in effetti la maggior parte dei film che raccontano una donna che viaggia da sola raccontano una donna che ha appena finito una lunghissima relazione va in viaggio da sola e si innamora un po' il copione che seguono tutti invece io porto come suggerimento il film Wild che è la storia di Cherry Strayed con Risa Witherspoon e Laura Dern che io l'adoro e è la storia di una donna che si trovava in una situazione di molta fragilità della sua vita dopo la morte della sua madre ha avuto coinvolgimento con l'eroina si metteva in diversi diverse relazioni molto negative per lei e anche senza aver mai avuto nessun allenamento decidi di fare questo trekking in mezzo al deserto della California e praticamente passa un sacco di giorni completamente da sola in mezzo alla natura perché ho deciso di dare le indicazioni di questo film Wild è la storia di una donna che trova in un viaggio da sola la strada per ritrovare se stessa è lontana da tutto e principalmente contro qualsiasi stereotipo una donna completamente da sola in mezzo alla natura in mezzo a tutte le sfide che possono avere un trekking del genere quindi molto faticoso e è molto bello perché secondo me è molto sensibile è un film che magari ti aspetti che prima o poi ci sarà la svolta che lei conoscerà qualcuno che tutto diventerà bello invece non è così racconta un po' del rapporto con la sua madre ma anche proprio del percorso emozionale di Sherry la cosa bella per quello che ho portato questo suggerimento è stato proprio ascoltare le voci sia dell'autrice del libro che quella che ha vissuto questa storia che anche di tutta la crew del film raccontando un po' come è stato realizzare questo film quindi è un film praticamente fatto da donne anche se il ceneggiatore è un uomo però racconta rapporti fra donne e una cosa che mi ha colpito tantissimo è stata in questa intervista che ha dato Sherry che lei racconta io ho fatto questo viaggio per ritrovare me stessa e questa risposta anche in tutte le altre ricerche che ho fatto ascoltando storie di donne che hanno deciso di viaggiare da sole e mi sono chiesta perché c'è sempre questa risposta quando una donna decide di viaggiare da sola ma perché forse nella quotidianità delle donne abbiamo veramente così poco tempo per pensare a noi stesse e quindi è come se ci fosse bisogno di uscire dalla normalità per dare priorità a quello che vogliamo e che secondo me quando viaggiamo da sole è proprio la cosa più bella per me la cosa più bella di farmi 15 giorni in Thailandia è stato quello di alzarmi la mattina e dirmi oggi ho voglia di stare solo al mare domani ho voglia di vedere 10 musei dopo domani ho voglia di leggere un libro mezz'ora dopo non ho più voglia ho voglia di andare a mangiare cioè la priorità sono io quando io viaggio da sola e secondo me ci diamo pochissime volte la priorità a noi stesse nella vita reale secondo me noi siamo troppo accondiscendenti sia nella vita di tutti i giorni ma anche quando viaggiamo con gli altri è come se non volessimo mai dare fastidio in qualche modo capisco sono assolutamente d'accordo è come se nella vita quotidiana non ci fosse spazio per noi stesse e non voglio dire lo skin care capito io voglio dire cose più profonde e quindi avere la possibilità di viaggiare da sola senza nessuno ma nemmeno senza le amicchie per dire ma anche un weekend fuori porta ti porta delle riflessioni ti porta di dover convivere con te stessa proprio il fatto di dare priorità a noi è come se noi veramente vivessimo tutta la nostra vita un po' dando priorità a quello che vogliono gli altri cioè il viaggio da sola diciamo il tema principale parla molto di questo e lì io anche mi chiedo ma abbiamo bisogno di viaggiare da sole per dare priorità a noi nei momenti della nostra vita magari sono cose che avremmo potuto anche fermarci prima di viaggiare da sole è una cosa che riportiamo anche alla nostra vita di tutti i giorni per film ce lo giuro che mi è venuta in mente solamente It, Pray, In Love con Julia Roberts perché è il cliché di questa questa cosa qua oggi vedo che ci sono un sacco di problemi in questo film però la prima volta che l'ho visto mi è veramente ispirata perché è fatto per far ispirare le donne cioè di farci vedere è una storia vera e ci fa vedere che c'è una vita oltre il matrimonio oltre delle illusioni amorose che puoi bastare da sola per viaggiare per scoprirsi e tutto quanto quindi vabbè è un cliché però un super cliché ho pensato anche Sotto il sole della Toscana anch'io perché poi quel film è stato uno dei film che mi ha ispirato a venire in Italia che poi anche quello è pieno di cliché ma proprio principalmente dopo essere venuta in Italia ho capito quanti cliché ci siano in quel film però quel film anche mi piace perché alla fine del film si passa tutto il film pensano che lei troverà il nuovo amore che quello la la salverà no? e che poi alla fine quello che li salva è lei stessa è che lei trova una famiglia che non è la famiglia dell'uomo donna e bambini lei trova la sua famiglia nelle persone che ama che ama altre indicazioni che io ho sono più per i viaggi ragazzi io vi consiglio di viaggiare da sole perché è veramente una figata è bellissimo è un privilegio ed è un diritto acquisito quindi se avete l'opportunità godetelo sì non date per scontato esatto perché possiamo perdere dei diritti così in un in un battito di ciglia quindi i miei consigli sono ogni cazzo di città ha il suo alla sua guida turistica gratis ci sono un sacco di city tour gratis che potete partecipare per non avere scuse poi c'è un sito che si chiama meetup m i i t u p che praticamente è come se fosse una rete sociale per organizzare degli appuntamenti con altre persone per fare delle cose per dire trekking se tu non vuoi andare fino in Australia ma vuoi iniziare easy con i tuoi viaggetti vuoi fare una gita fuori porta potete andare in montagna e per non andare da sola c'è questo sito in cui ci sono gruppi che si organizzano per fare trekking fuori delle città in montagna o andare a fare una giornata al mare fare o che cavolo ne so un giro in bici da qualche parte quindi potete iniziare anche easy prima di andare dall'altra parte del mondo poi c'è io sempre nello stesso mood tuo ho trovato un'associazione si chiama viaggio da sola perché loro si autodichiarano viaggio da sola perché è la comunità delle donne che viaggiano da sola ma fanno rette tra loro quindi è veramente molto bello è la parte del blog ci sono tutti i racconti delle member di questa associazione che raccontano il proprio viaggio da sole e inspira tantissimo perché sono storie completamente differenti magari quella che viaggia per lavoro quella che ha fatto il piccolo viaggio da Milano a Ravenna da sola per dire quindi ci sono tutte queste storie che veramente fanno avere voglia di prendere il primo treno il primo aereo e partire e in più loro promuovono anche eventi degli incontri fra le socie dell'associazione e parlano molto di quali sono anche le indicazioni per una donna che vuole viaggiare da sola poi ho trovato una classifica molto interessante di un'agenzia di viaggio ma ho visto questa classifica essere citata in tanti tanti articoli la classifica si chiama Vanderwoman che è W A N D I R Woman Index e praticamente lista le top 35 destinazioni per le donne da sole ma non è solo tipo le classiche classifiche poi pericolose esatto se è pericoloso o non è pericoloso c'è anche quello ma ci sono quelle tappi che hanno più avventura hanno più cultura hanno più eco travel tu puoi vedere la valutazione di tutti i paesi da 0 a 10 ed è molto interessante per dire nel 2020 il paese che è più figo secondo questa classifica per andare da sola è la Nuova Zelanda lascerò il link nella descrizione della puntata così è più facile per tutte e vabbè buon viaggio a tutte carissima amica veni qui e raccontami tutto questo è il blocco del programma in cui leggiamo le vostre mail i vostri direct e sentiamo i vostri audio questa settimana abbiamo chiesto specialmente dei vocali su viaggi da sola abbiamo ricevuto quei messaggi molto interessanti e vi faremo ascoltare alcuni dai ciao care a me piace tanto viaggiare da sola perché trovo che sia un'ottima occasione per poter fare provare e anche conoscere cose nuove che magari quando sono in compagnia non sono molto disponibili oppure propenze a farlo quindi credo che sia anche un'ottima cosa stare nella mia propria compagnia perché tante volte ho potuto anche conoscermi meglio in questa occasione quindi sì assolutamente viaggiare da sola è un'esperienza molto ricca il primo viaggio da sola a 20 anni in Nepal doveva essere una settimana di lavoro volontariato ed è diventato un mese di viaggio stupendo seconda esperienza 22 anni Bolivia Pedro Ecuador e Colombia per quattro mesi sempre da sola non mi sono mai divertita così tanto terza esperienza puntando sempre più in alto dopo due anni cinque mesi in sud-est asiatico partendo Indonesia Malesia Thailandia Laos Cambogia e Birmania che spettacolo che poi quando parti da sola sola non sei mai perché lì il momento in cui veramente conosci gente ti apri a nuove esperienze secondo me ogni donna dovrebbe farlo io sono praticamente una dilettante verso questa donna qua che ha fatto tutto il mondo mille mesi di seguito così una super viaggiatrice brava infatti bellissimo e poi mi piace un sacco il modo come come lo dice come se non fosse niente la mia vita quotidiana è così io vado in giro credo che tutto il mio viaggio in Italia sia stata un'avventura era la mia prima volta in Europa e sono andata da solo già il primo giorno appena arrivata dovevo prendere un treno per un'altra città e non avevo idee di cosa fare ricordo che ero confusa perché non sapevo che la destinazione finale del treno sarebbe apparsa sul tabellone e non necessariamente quello in cui sarei fermata sono rimasta un sacco di tempo nelle situazioni totalmente parsa nonostante tutti i casini è stata una grande crescita personale che carina noi sappiamo bene cos'è essere un estreniere in un paese completamente diverso dal nostro quindi brava per il coraggio e grazie mille della condivisione ciao a tutti io mi sono trasferita ben due volte prima a Londra quando avevo 23 anni e poi mi sono trasferita a Berlino dove vivo da 4 anni in queste nuove realtà e in questi appunto viaggi in cui ho deciso di viaggiare da sola mi sono davvero riscoperta beh ragazze questo è stato veramente un bellissimo viaggio questa puntata credo che per una volta anche ce ne siamo accorti anche noi che non abbiamo parlato tantissimo di maschilismo su questa puntata ma anche perché il femminismo secondo me è anche parlare di noi parlare di quello che ci piace parlare della nostra libertà e essere protagonista in noi della nostra storia esatto il racconto non deve essere sempre verso gli altri ma anche verso noi stesse sì io volevo ricordarvi che se volete seguirci sui social noi siamo cara sei maschilista su instagram e su facebook potete inviare le vostre mail con suggerimenti domande o raccontando una vostra storia su cara sei maschilista chiocciolo gmail dot com e ci vediamo alla prossima ci vediamo alla prossima grazie mille ragazzi ciao ricordiamo che un accento straniero non dovrebbe essere motivo di imbarazzo ma si un senso di coraggio quindi aspettatevi alcuni neologismi da cara sei maschilista grazie mille ragazzi